Nessuna tassa aumentata per i cittadini aquilani, a parte un leggero adeguamento della Tasi, bilancio comunale ingiunta oggi prima del definitivo passaggio in consiglio comunale. Un risultato importantissimo per l'assessore Lelio De Santis. Con questa operazione oggi di bilancio eliminiamo, azzeriamo questo adeguamento che per l'Atari era di intorno al 30% e per l'Imu era al massimo 8,1%. Tutti questi aumenti sono cancellati da chitto, non solo, ma per l'Atari riusciamo anche a fare una riduzione di circa il 5% rispetto anche all'anno scorso, soprattutto nei confronti delle attività commerciali, artigianali, le utenze non domestiche. Penso che sia una bella giornata non tanto e non solo per noi ma per gli aquilani. L'Imu resta uguale per tutti, annuncia il sindaco, ma ci saranno delle penalizzazioni per chi tiene case e negozi vuoti. Questo per evitare lo sciacallaggio, spiega il primo cittadino negli affitti. Ritocchiamo solo un minimo di tassi pur rimanendo fra le più basse d'Italia, al 2,5%. L'Imu resta uguale? Lasciamo l'Imu in mutata, chi ha alloggi e negozi sfitti in particolare paga di più, paga il massimo, perché ci sono proprietari, soprattutto al centro storico, di negozi che ce l'hanno vuoti perché chiedono affitti spaventosi. È l'unico modo che abbiamo per calmerare. Un bilancio che dunque non graverà sulle tasche degli aquilani e pensare che solo qualche tempo fa c'era il problema del buco dei 15 milioni di euro, ma poi, spiega il sindaco, l'intervento del governo, prima con 7 milioni di euro e poi con più di 6 milioni di euro, ha evitato il peggio. Poi è stato l'immediato all'errore che si porta storicamente, una cosa complicata da spiegare e abbiamo recuperato 6 milioni e 278 mila giovedì sera, è arrivata la conferma, per cui noi abbiamo fatto una serie di ipotesi di bilancio, dalla peggiore, più dolorosa a questa qui.